I collegiali hanno lasciato la scuola Io ho 15 anni, quindi rientro ancora nella scuola dell'obbligo Però non vado più in presenza, perché voglio cambiare indirizzo Riccardo Dose ha detto la scuola Semi-influencer molto giovani che decidono di lasciare la scuola E io mi chiedo, che c***o vi passa per la testa? Ragazzi, qui ho un brufolo che paro la, non lo so, la strega di Biancaneve Nessuno mi riconoscerà Madonna raga, mi faccio paura da solo Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al Collegio 5 I collegiali hanno lasciato la scuola e Riccardo Dose ha detto la sua Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre, vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative video che pubblico Tutti i giorni o quasi qui sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul collegio Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì proprio, tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dedicato al collegio 5 L'edizione che più ci ha fatto emozionare, arrabbiare, ridere, quello che vi pare Insomma è che ci ha regalato tantissimi dissing Oggi infatti parleremo, anzi ritorneremo a parlare Dei collegiali che hanno lasciato la scuola nella vita reale Quindi non in tv Ma che hanno lasciato il loro percorso di studi Ma non parleremo solo di questo Infatti c'è un ma grande quanto una casa come sempre Perché oltre ai nostri collegiali Parleremo anche a grande, grandissima richiesta Di lui, il king, il re dei gossip No dei gossip, no scusate Dei dissing E cioè Riccardo Dose Allora, vi ricordate che qualche tempo fa In realtà pochi giorni fa Vi ho parlato di un ex collegiale del collegio 5 Che aveva lasciato la scuola E infatti parliamo di Esa Cristini Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui Nella i di informazioni Ecco, se vi ricordate Avevo spiegato insomma Che lei aveva detto che non si trova più bene Certe persone gli hanno reso la vita impossibile Bene Lei però non è l'unica Non è l'unica ex collegiale Che ha deciso di interrompere il suo percorso di studi Che ha deciso di lasciare la scuola Almeno per il momento Infatti oggi faremo un po' di chiarezza Su quello che è successo e su cosa veramente Diciamo è successo per quanto riguarda Esa Cristini Che non ha definitivamente lasciato la scuola Ma c'è un ma appunto Grande quanto una casa Ma tornando a noi appunto Lei non è l'unica ad aver lasciato la scuola Ci sono ben altri due ex collegiali di questa edizione Che hanno detto addio Forse arrivederci alle loro scuole E infatti partiamo proprio subito Letteralmente col botto Botto rifacendoci a quello che è stato un post super chiacchierato Super discusso Dei nostri amici di Webbo.it Post super chiacchierato Super condiviso Super discusso Ve lo ripeto Che ci ha fatto vedere Che appunto Esa Cristini Non è l'unica persona del collegio Che ha smesso di andare a scuola Ma anche Simone Bettina e Raul Teoli Hanno deciso di interrompere i loro studi Tempo fa infatti A comunicare questa decisione netta nella sua vita Era stato Simone Bettin Che in questi ultimi giorni Si è lasciato andare ad ulteriori dichiarazioni Riguardanti la sua scuola Infatti in questi ultimi giorni Ci sono tante persone che hanno fatto questo box di domande Con scritto L'ultima volta che hai Puntini puntini E i followers scrivevano qualcosa E qualcuno gli dice Balzato scuola E lui risponde Oggi Ma in realtà sottoscrive Ho lasciato la scuola Tant'è infatti che rifacendosi forse Penso a un post vecchio Che in realtà è di qualche mese fa Simone Bettina aveva sempre scritto questo E così dopo Esa Cristini E Simone Bettin Siccome appunto non c'è due senza tre Eccolo qua Il nostro terzo collegiale Che ha deciso di lasciare la scuola E parliamo proprio di Raul Teoli Che sempre rifacendoci Al bellissimo post di web.it Aveva dichiarato questo Che cosa ci devo andare a fare a scuola? A farmi bocciare? Perché probabilmente non avrei voglia E quindi non studierei niente? A questo punto non ci vado E faccio prima Il prossimo anno Meglio? No? E poi insomma Non sappiamo quale sia la sua decisione definitiva Però questo è quello che aveva raccontato Raul Teoli Insomma Tre ragazzi Che hanno messo forse un punto Alla loro carriera scolastica E non lo so ragazzi Io sono abbastanza combattuto Ma vi dirò poi tutto quello che penso Più avanti nel video Insomma Di fronte a queste dichiarazioni Di fronte a queste scelte Veramente shock Da parte dei nostri collegiali C'è chi ha un po' Storto il naso Ovviamente Tantissime persone nei commenti del post di Webbo Si sono sbizzarite E hanno detto Ma che state a fama Di qui, di là, di su, di giù E c'è poi chi Magari anche in maniera Più ampia Più in generale Ha parlato Della scelta Di lasciare la scuola E a questo proposito Arriva lui Il nostro king Dei dissing E cioè Riccardo Dose Che nelle sue stories Ha fatto un bellissimo Un bellissimo ragionamento Secondo me Un bellissimo discorso Proprio perché lui In prima persona Anche se Alla sempre lavorato Sui social Non ha mai E dico mai Ha avuto l'intenzione Di interrompere Quelli che erano i suoi studi Addirittura universitari Perché lui si è Laureato in fisioterapia Insomma Lui Carichissimo Ha subito detto Quello che pensava E tant'è che ha pubblicato Queste stories Guardate Leggo sempre più spesso Notizie di semi-influencer Molto giovani Quindi 15-16 17 anni Che decidono Di lasciare la scuola E io mi chiedo Che c***o Vi passa Per la testa Che c***o Vi passa Per la testa Lo so che questa decisione Probabilmente viene presa Nel momento in cui Vedete i primi soldi facili Ma ciò Non vi giustifica Ad abbandonare L'unico dovere Che avete a quell'età E se da un giorno All'altro Dovesse svanire Tutto quanto Voi che Con che cosa Rimanete in mano Che poi ognuno È libero di fare Ciò che vuole Nella propria vita Però poi non piangete Vi giustificate Dicendo Eh non sono in grado Di coniugare Il troppo lavoro Con gli studi Ma vaffanculo Vaffanculo Io ho portato A termine Un percorso Di tre anni In fisioterapia Con 40 esami all'anno E non mi sono lamentato Nonostante Io in quel periodo Potevo benissimo Abbandonare Qualsiasi cosa Dato che ero già Indipendente Dal punto di vista Economico Però Va tutto contro di voi Alla fine Ritorna tutto contro di voi Perciò voglio concludere Questo discorso Nella maniera Più generale possibile Se in questo momento Della vostra vita Avete la possibilità Di andare a scuola Ma soprattutto La fortuna Di poter concludere Un percorso scolastico Fatelo Fatelo Non ascoltate La vostra mente Da adolescenti Ma continuate E portate a termine Quello che avete iniziato Perché altrimenti In futuro Rischierete Di pentirvi Delle vostre scelte sbagliate Insomma ragazzi Un discorso molto forte Molto sentito Da parte di Riccardo Dose Tant'è infatti Che le sue parole Sono arrivate dritte Dritte sotto gli occhi E alle orecchie Di uno dei nostri Tre collegiali Raul Non ha risposto Simone Bettin Neanche L'unica Che ha voluto replicare Alle parole di Riccardo Dose È stata proprio lei Esa Cristini Che In preda anche Forse un po' al panico Ha pubblicato Queste stories Guardate In risposta alle storie Di Riccardo Dose Ci tengo a precisare Che io ho 15 anni Quindi sono Rientro ancora Nella scuola dell'obbligo Quindi io la scuola La faccio da casa Con dei tutor Che mi seguono Eccetera Però non vado più in presenza Perché voglio cambiare Indirizzo E scuola Queste però Non sono le uniche parole Che Esa Cristini Ha detto su questo argomento Tant'è infatti Che ha pubblicato Anche un bellissimo commento Sotto il post Di web.it Per chiarire un po' Di più Insomma Per mettere i puntini Sulle i Su quella che sarà La sua futura Carriera scolastica Perché insomma Di fronte A tutto ciò Si è creato Un po' Un giallo Un giallo Sulla scuola Di Esa Perché nessuno Ha capito Se lei continuava Oppure no Ma Questo è quello Che ha detto Infatti noi Ci rifacciamo Alle sue parole Raga Giusto per precisare Ho smesso Con la scuola In presenza Ma sto studiando Da casa Con dei tutor Per non perdere l'anno E addirittura Per cambiare indirizzo A settembre Farò tutti gli esami Penso che la scuola Sia fondamentale E che senza un diploma Di sti tempi Non si riesca a fare nulla Quindi ok Esa non ha assolutamente Lasciato la scuola Anzi Sta continuando a studiare Darà degli esami Insomma Penso anche integrativi Per cambiare indirizzo E vi dico la verità Nulla di strano Nulla di impensabile Perché a tante e tante persone Capita Di non trovarsi bene In prima In seconda superiore Di voler cambiare indirizzo È successo A dei miei compagni di classe È successo A tante persone Mi ricordo Le lacrime Di gente Che se ne è andata In prima In seconda Anche in quarta Pensate un po' Quindi veramente Si possono avere sempre Dei dubbi E si può anche Non so Non trovarsi bene Nella scuola In cui si è Ci sta Quindi sono molto contento Per Esa Che comunque Continuerà i suoi studi E non so Ho apprezzato veramente tanto La sua Insomma Il suo voler ribattere E specificare Che non è assolutamente Vero che lascerà la scuola Ma l'ha semplicemente Messa un attimo In stand by Tra molte virgolette Perché in realtà Se sta studiando Se sta comunque Facendo le lezioni E se sta comunque Preparando degli esami Che dovrà dare Per il prossimo anno Tanto di cappello ragazzi Perché almeno Rimane Focus Come si dice Focalizzata Nel suo percorso Di studi Mi dispiace invece Che sia Raul Che Simone Bettin Non abbiano detto nulla A riguardo Ma insomma Poteva essere anche Una valida Occasione Mettiamola così Per parlare di questo argomento Dato che vengono seguiti Da tante e tante persone Anche piccole Quindi insomma Magari una parola Su tutto questo argomento Si poteva anche spendere Detto questo Se da una parte C'è chi come Riccardo Dose Si scontra un po' Con quelli che sono i collegiali Che Boh Vogliono fare gli influencer Punto E non vogliono più andare a scuola Dall'altra parte C'è invece Chi forse è un pochino Più vicino Sia per quanto riguarda L'età Sia per quanto riguarda Ciò che fa nella sua vita Che vuole un attimo Spezzare Una lancia in favore Dei ragazzi Che scelgono Liberamente Di lasciare la scuola O comunque Di metterla un attimo In pausa E stiamo parlando Di lei Della nostra Gaia Bianchi La tiktoker Più discussa Degli ultimi tempi E ne parleremo Anche in qualche Tg Talk Questo perché Beh insomma Non vi dico perché Ne parleremo più avanti Di Gaia Bianchi Ma venendo a noi Che cos'è che ha detto Cioè Quali sono state le parole Che hanno un po' Anche scandalizzato il web Anche perché Non so se vi ricordate Ma sempre parlando di scuola Gaia Bianchi Era stata Proprio Criticata al massimo Per aver detto Vabbè chiudete le discoteche Io non me ne Non vado a scuola Insomma Se chiudete le discoteche Io non vado a scuola Però anche qua Ne abbiamo parlato anche noi Ampiamente Eccetera eccetera Ed io sono convinto E l'ho anche detto lei Che era molto ironica In quel caso E che ovviamente Era una Una sana Non so come dire Provocazione No mettiamola così Però è stata ripresata Penso anche da Testate online Molto importanti Comunque Oggi Torniamo a parlare di lei Perché ha voluto Un po' difendere Tutte quelle persone Che liberamente Scelgono Di interrompere I loro studi Quindi non è che Di lasciare la scuola Sì che bello Lasciamo la scuola Lei ha semplicemente Parlato di Di libertà di scelta Sostanzialmente Che riguarda Proprio la scuola E Nei commenti Sempre Penso anche Nelle sue stories Nei commenti comunque Del post di Webbo Ha scritto Questo Partiamo dal presupposto Che dai 16 anni Con consenso di genitori E professori Puoi smettere di andarci Anche se poi Poi c'è un'altra legge Che dice che bisogna Almeno avere il titolo Di studio delle superiori Di almeno tre anni E già qua Se uno viene bocciato Ci sono due leggi contrastanti Resto sempre dell'idea Che la scuola Si può Possa ragazzi Mannaggia i congiuntivi Recuperare in futuro Con i serali Ognuno Fa le proprie scelte Nella propria vita Che siano giuste O sbagliate Si impara Quindi Che veniate a fare i moralisti Su una libera scelta Di ciascun ragazzo Non è giusto Bisogna pensare più a se stessi E ad arrivare agli obiettivi A cui si aspira Fate quello che volete Usando la testa Ricordatevi che nessuno È migliore di voi Se critica quello che fate Resto di questa idea Bene Dipinto questo quadro generale Della situazione A 360 gradi Arriviamo a noi Arriviamo a quello Che penso proprio io Cioè io Nel momento in cui Ho visto che questi ragazzi Hanno lasciato la scuola Ho visto le stories Di dose Ho detto Perfetto Io sto assolutamente Dalla parte di dose Ma non è che è una questione Di schierarsi Giusto o sbagliato Però è vero Cioè io Intanto mi rivedo molto In quello che ha raccontato Riccardo dose Perché anche io Come lui Sì Lavoravo sui social Ma ragazzi Io paradossalmente Lavoro da molto poco Sui social Da due anni Quindi non da tantissimo Che è diventato proprio Il mio vero lavoro Ok Quindi Inizialmente Anche io Ho dovuto Bilanciare le cose Andavo in università Nel frattempo Coltivavo la mia pagina Instagram Poi YouTube Poi TikTok Poi tante altre cose Però le cose Coesistevano Mentre lavoravo E facevo anche uno stage Studiavo E mi impegnavo anche In quello che poi È diventato il mio lavoro Qua sul web La stessa cosa Ha fatto lui Lavorava Studiava Faceva anche Un lavoro sul web Ma non ha mai pensato Di lasciare La sua carriera Universitaria Soprattutto ragazzi Ma qui parliamo Di persone che hanno 16, 15, 17 anni Che Abbagliati forse Da Non lo so Da quella che può essere La popolarità La Che tutti vogliono parlare con te Che tutte le aziende Vogliono lavorare con te E se è appena uscito Da un Da un programma Televisivo Hai 100 200 300 400 Mila persone Che ti seguono E diventi Tra virgolette Un influencer Lo diventi Cerchi di diventarlo Non lo so Forse abbagliati Dai soldi facili Dalle aziende Che ti contattano Da mille altre cose Da entrare in alcune agenzie Quello che vi pare Pensano Di lasciare la scuola Che ragazzi È una cosa Pericolosissima Io lo dico Conscio del fatto Che io ho Fatto la scuola Sono andato in università E facevo anche altre cose Mi piange il cuore Vedere dei ragazzi Che sono così giovani E che pensano Di lasciare la scuola Perché tanto Si lavora sui social Ragazzi Sì Si lavora sui social È una cosa bellissima Io non smetterò mai di dirlo Sono Ragazzi Viene proprio da me Questo discorso Che ci lavoro sui social Bellissimo Lavorare sui social Su internet Fantastico È una cosa Secondo me Molto creativa Molto bella Stai sempre in contatto Con la gente Anche seppur virtualmente Ma oggi come oggi È quello che possiamo fare Soprattutto in questa situazione Credere però Che non serva Un titolo di studio Che non serva Andare a scuola Che non serva Avere un bagaglio culturale Un senso critico Quello che vi pare È pericolosissimo ragazzi Tant'è infatti Che io volevo leggervi Anche un commento Che ho proprio messo Sotto il post Di web.it Io ho scritto Secondo me è una cosa Che vi voglio proprio leggere Perché credo fermamente In quello che ho scritto Io ragazzi ho scritto Testuali parole Che dicono Spero solo tornino a scuola La vita da influencer È bella Sì Ma la popolarità Non è tutto E soprattutto Svanisce La cultura Il sapere Il senso critico Sono la vera ricchezza Ed io Questo commento Queste cose che vi sto dicendo Le dico E le penso Soprattutto Perché le ho vissute Io ho 24 anni Ho fatto il liceo linguistico Ovviamente ho fatto come tutti quanti Elementari Medie Eccetera eccetera Ho fatto il liceo linguistico Ho preso delle certificazioni In inglese Francese Spagnolo D'accordo Bellissimo Ho fatto tre anni di università Ho iniziato a lavorare Facendo degli stage Occupandomi dei social E quant'altro E nel mentre Nel mentre Mentre studiavo Mentre lavoravo Coltivavo anche il mio spazio Piccolo spazio Sul web Prima su Instagram Poi su YouTube Poi insomma ovunque Più o meno E quindi Vi dico No Non si deve lasciare la scuola Perché senza la scuola Senza Tutte quelle persone Che mi hanno insegnato Praticamente ragazzi Non dico a vivere Ma sicuramente a pensare Ad avere Un senso critico Ad avere Un bagaglio culturale Non sarei qua oggi Non saprei parlare Penso di parlare Un briciolo bene D'italiano corretto Penso di fare Dei discorsi Che abbiano un senso Penso di saper scrivere In un modo Comprensibile Che abbia senso Se Si interrompono gli studi Se si interrompe La propria carriera Scolastica Non solo Si ha meno Dentro Nel senso che Non si è così tanto Ricchi Di informazioni Ma non solo Di nozioni Di sapere la formuletta O altre cose Ma anche Cioè non lo so Se qualcuno parla Di leopardi Sai chi è Se Vai a vedere Ma che ne so Qualche monumento Dici Ah sì Questa cosa Me la ricordo Cose anche Che in realtà Servono tutti i giorni No Un minimo di cultura Per non sembrare Una persona Che non è mai uscita Da casa sua E poi ragazzi Parliamo seriamente No Tutto bello Il fatto di avere Un bagaglio culturale Quello che vi pare Ma Noi andiamo a scuola All'università La gente Fa un sacco di cose Perché Perché si vuole Trovare un lavoro Vogliamo trovare un lavoro Vogliamo lavorare Abbiamo bisogno Anche di lavorare E vogliamo sostanzialmente Lavorare in un ambito Che ci appartiene Che sentiamo nostro Senza la scuola Senza un diploma Senza una laurea Il lavoro Non è così semplice Da trovare Già Non trovano lavoro In maniera molto semplice I laureati Le persone super specializzate Già fanno fatica Quelle persone Immaginate voi Senza un diploma Senza una laurea Che cosa potete fare Io Giusto per darvi L'idea Di quello che è il nostro paese Di quello a cui serve Un titolo di studio Volevo farvi Un esempio Proprio basilare Che è l'esempio Di lavorare in posta Per lavorare in posta Devi avere Almeno O un diploma Con un minimo Di 70 su 100 Come voto finale Oppure Una laurea Sia magistrale Non so Triennale Comunque triennale Con almeno 102 Su 110 Quindi ragazzi Pensate Io sono al limite Ad esempio Per lavorare in posta Perché ho 102 su 110 Di voto di laurea E rendetevi conto Che per Lavorare con tutto il rispetto Che io porto Per la gente Che lavora in posta Tranne per il postino Che sbaglia sempre le cose Qua a casa mia Per lavorare in posta Serve sì Un diploma O una laurea Con un minimo di punteggio Quindi vuol dire Che se tu Ti diplomi anche Ma con 69 Non puoi Fare il postino Che vi ripeto Tutto il rispetto Per fare i postini Ma penso Che non serva Una laurea O insomma Un titolo di studio Per fare quella Quella mansione lì Per intenderci no Uno pensa Vabbè basta che ho La patente del motorino E vado a Consegnare le lettere Non è questo Non basta Dovete avere ad esempio Un diploma E vi ho fatto l'esempio Del postino Perché è uno dei lavori Più comuni Che magari anche Nella nostra Cultura generale Non so come dire Non pensiamo Che serva Una laurea In postinologia Non so come dire No Cioè E invece sì Serve un titolo di studio Se non avete Quel titolo di studio Non potete fare i postini Ma non è che non potete fare Solo i postini Non potete fare Tantissime altre cose Quindi Il rischio di lasciare Anche la scuola Prima E dire Sì vabbè La farò Pensateci molto bene Cioè Io capisco Che si possono avere Dei problemi A scuola Non ti piace Qualche prof Qualche prof Ti ha preso di mira Va bene Può succedere È sbagliato purtroppo Perché ovviamente Un prof dovrebbe star lì Per aiutarti Per spiegarti Per fare Disfare E invece a volte Capita di trovare Persone non competenti Ma La cosa giusta da fare Non è lasciare la scuola Per sempre Cambi scuola Cambi sezione Cambi indirizzo Però non si deve lasciare Non si deve lasciare Il proprio percorso Di studi Perché Ne va della vostra vita Del vostro lavoro futuro Della vostra cultura Ragazzi Credetemi che È andare ad esempio Alle lezioni E non sapere chi votare Perché Non si hanno Gli strumenti Per decidere Non è una cosa bella Non è una cosa bella Non saper Scrivere In maniera Abbastanza corretta Un post Su Instagram Su Facebook Un messaggio Un curriculum Tutte cose Che senza la scuola Senza qualcuno Che ti insegna Non sai fare Quindi State molto attenti Vivete la scuola Come veramente Degli anni Che Non Non torneranno mai indietro E che quindi dovete Proprio Viverli intensamente Al cento per cento Perché nessuno Nella vostra vita Vi farà tornare indietro Nel tempo Agli anni del liceo Agli anni Dell'università Agli anni Di tutte ste cose Che abbiamo fatto Che farete O che non farete Non lo so Però veramente Io Cioè Nonno Fabri Oggi è qui Anche per dirvi questo Non volete prendere la laurea Va bene Anche perché poi Ognuno ha i suoi Le sue peculiarità Ha i suoi interessi Va bene Però almeno il diploma Prendetelo Molto bene ragazzi Direi che il video Può finire qui Quindi adesso Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di tutto quanto E soprattutto Per favore Non lasciate davvero la scuola Cioè promettetemelo Nei commenti Scrivetemelo Vi prego Cioè proprio Come si fa Non lo so Detto questo Comunque il video Può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi ci abbiamo provato Ciao